Questo è giovedì 5 luglio. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di un duplice omicidio per la conquista della racchetta al volo di Sant'Antonio, un assalto al cosiddetto cassiere della Camorra in quella zona chiamata Buvero che da sempre viene contesa tra le famiglie malavitose di Forcella e il clan continui delle ore amicizie. Ultime 48 ore per vaccinarsi in base alla prima scadezza per la scuola dell'infanzia e alla lasci finale il sistema sanitario campano rivela tutte le sue crepe. Fino a qualche giorno fa sembrava che solo la ASL Napoli 1 fosse in affanno ma ieri le file infinite hanno riguardato anche la provincia. Dalla ASL Napoli 1 si sa solo che dal primo settembre a ieri sono state inietrate oltre 5.000 dosi. Ok, questo è il numero 2.000 dosi. E' il numero 2.000 dosi. Il numero 2.000 dosi è possibile effettuare alle vaccinazioni. Tra l'altro negli ambulatori arrivano anche quelli delle scuole dell'obbligo che avrebbero tempo fino al 31 ottobre. La testa di un maiale è stata ritrovata le scorse ore all'esterno dell'abitazione del vice sindaco di Porto Marino in provincia di Napoli, Nicola Salvati. Il numero 2 del palazzo comunale di piazza De Marinis condivide l'appartamento con il padre, indaga l'ora e i carabinieri della locale stazione. Non si esclude al momento la vista delle intimidazioni. Occorre racchiarire anche se la testa fosse dirizzata al vice sindaco o al papà del giovane politico in passato candidato al consiglio comunale. Troppi ritardi dei lavori di via Marina e il comune di Napoli manda il conto alla ditta per gli sforamenti. Quasi un milione di euro, intanto con la richiesta di palazzo San Giacomo, la classe costiera Scala per i cantieri che durano ormai da ottobre 2015. Il mega restlining da 21 milioni di euro doveva concludersi cinque mesi e mezzo, invece di rinvio e rinvio è ritratto quasi a due anni. Dopo diversi richiami, il municipio Petterobeo ha deciso così di far scattare le penali previste dal capitolato all'affalto. Ci tratta di due sanzioni incominate per ritardi giustificati nella consegna dell'opera. La polizia ferroviaria della stazione di Napoli Centrale ha arrestato un cittadino extracomunitario di nazionalità algerina per furto aggravato. Agenti in abiti civili avevano notato due extracomunitari che si aggiravano con fare sospetto tra i viaggiatori e tra i clienti di un bar della stazione di Napoli Centrale. Dopo pochi minuti, uno di essi ha afferrato la borsa di un cliente dirigendosi verso l'uscita, ma gli agenti sono riusciti a provocare una portata evolutiva, mentre il presunto complice si è allontanato. I carabinieri della stazione di Agerola, insieme ai colleghi della stazione forestale Icars, della mare di Sabbia, sono intervenuti in via Casanova denunciando per varie reati ambientali sei persone del posto. I due titolari e i quattro soci di due ditte di movimento terra, sull'area privata della superficie di circa 4.000 metri quadrati di territorio sottoposto al vincolo paesaggistico e al rischio idrogeologico, avevano illegalmente stoccato il trattato per rifiuti speciali. L'area è stata sottoposta a sequenzo. Sicilia ha anche emensi meccanici utilizzati per le attività non autorizzate, con miniate e sbagliate sanzioni amministrative. E' un po' di stacco di massi dovuto alle avondanti piogge delle ore precedenti, si è verificato nella notte sull'isola di Capri. Tre eroghi massi sono venuti giù dal costone roccioso in zona Castigliore, finendo la loro corsa contro le abitazioni sottostanti in via Marina Piccola. Due case sono state eseguamente per la giurale, che non siano infatti distrutture le sue tive bucine, messo un periodo delle residenti in caso ha voluto infatti che le stanze da letto non venissero interessate dallo smontamento. Le abitazioni sono state esglomerate immediatamente, evacuate a scopo precauzionale, anche altri due appartamenti e una fitta camere. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la polizia e il sindaco assieme alle responsabili dell'ufficio tecnico. Lo smontamento ha tranciato anche dei caviarecchi. I finanziari di Salerno hanno scoperto una vendita illegale di profumi tester non destinati alla commercializzazione. 13.000 confezioni di profumi di note Marche, recanti la dicitura, demonstration not for sale, sono stati trovati in un deposito dei pagani ed è loro destinati ad essere venduti sulla bancarella del mercato leonale di Cavale e di Rini. La merce sequestrata avrebbe fruttato un introito illegale di circa 250.000 euro, denunciato per ricettazione a un uomo di nocere inferiore. Amici per giovedì 5 luglio 2018. Amici per giovedì 6 luglio 2018.